I carabinieri di Crotone hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Crotone dottoressa Romina Rizzo nei confronti di quattro persone indagate per i reati di concorso in detenzione, cessione e vendita di sostanze stupefacenti. Il provvedimento si fonda sugli elementi raccolti nel corso delle investigazioni svolte nei messi di novembre dicembre 2020 dalla stazione dei carabinieri di Crotone sotto la direzione del sostituto procuratore dottoressa Ines Bellessi e coordinate dal procuratore della Repubblica dottor Giuseppe Capoccia. L'attività ha permesso di raccogliere gravi indizi e di documentare un'attività quotidiana incessante e lecita di spaccio di sostanze stupefacenti esercitata in forma imprenditoriale organizzata su base familiare praticamente un vero e proprio sumbercato della droga. In un condominio ubicato nel quartiere periferico detto 300 alloggi. Numerosi episodi, più di un centinaio di cessione e vendita di sostanze stupefacenti, particolarmente cocaina ed eroina, ad assuntore provenienti anche da altre comuni della provincia. La violazione nel 25 novembre 2020 nella misura alternativa alla detenzione domiciliare da parte di uno degli indagati, il quale contravenendo alle prescrizioni imposte gli usciva dall'appartamento per recarsi al terzo piano del medesimo edificio per colloquiare con un'altra persona pregiudicata. Nel corso dell'attività i carabinieri di Crotone hanno sequestrato complessivamente 65 grammi di eroina e 10 grammi di cocaina.